siamo fra civita vecchia e roma e alle mie spalle c'è il castello di santa severa e qui che è iniziata la storia agricola della famiglia morani che andremo a conoscere fra qualche istante sulle colline retrostanti la spiaggia in questo castello quando guendalina morani era ragazzina si elevavano vacche da latte c'era una comunità di oltre 100 persone con il bottaio il famigliano il fabbro e tutti quanti contribuivano al successo di questa azienda agricola che oggi si è spostata sulle colline abbandonato le vacche da latte e si è dedicata al cento per cento agli animali da carne e alla razza maremmana siamo in un'azienda storica di queste zone che ha un secolo alle spalle più o meno sì e abbiamo iniziato iniziato mio padre mio nonno nel 34 quindi abbiamo quasi un secolo di vita sempre qua sopra 1200 e passa e inizialmente erano molti di più poi ci sono state le riforme fondi aria adesso sono 1200 con 800 ettari di bosco un 200 ettari di pascoli che sono questi intorno ai boschi e il resto è seminativo più o meno pianeggiante diciamo che cerchiamo di fare la filiera completa abbiamo le vacche che fanno i vitelli abbiamo l'ingrasso col metodo biologico quindi la vostra è un'azienda a ciclo integrato sì è un'azienda con una filiera diciamo completa abbiamo 240 vacche madri diciamo poi l'allevo sono in tutto 550 capi e abbiamo un ingrasso di 130 140 capi e dal 2005 abbiamo aperto questo spaccio aziendale e quasi tutta la nostra produzione va a finire lì vendiamo anche qualcosa al consorzio della maremmana bio quindi riuscite a valorizzare al meglio secondo me perché la clientela aumenta le persone sono contente abbiamo un allevamento legato alla tradizione anche per quanto riguarda l'ingrasso degli animali che è tutto fatto con prodotti aziendali con una razione alimentare non troppo forzata gli animali stanno bene la carne è molto buona e i consumatori anche di Roma Centro ne possono godere insomma quello che a me interessa di più è che siamo attenti al benessere degli animali perché finché sono vivi cerco di farli vivere nel miglior modo possibile animali che vivono qua 12 mesi all'anno praticamente vivono qua la loro la loro casa è questa vanno sui pascoli per mangiare quando c'è vento si infilano nel bosco e partoriscono di solito nel bosco perché forse si sentono più stanno meglio e devo dire che che sono animali che sono sempre liberi e liberi su su ampi spazi quindi possono camminare molto scegliere quello che vogliono mangiare che mi sembra importante e quindi se non ci fosse la maremmana queste colline sarebbero quasi abbandonate immagino se fosse la maremmana secondo me sarebbe un guaio perché nascerebbero crescerebbero un sacco di erbe infestanti e sarebbe probabilmente tutto in mano ad animali selvatici come i cinghiali ci sono anche i lupi da un po di tempo comunque i cinghiali rovinano moltissimo anche la superficie erbosa perché vanno a scavare e portano via anche delle piante che sono essenziali per il mantenimento del terreno parliamo di lupi che in altre zone hanno fatto sfracelli i lupi l'anno scorso sono stati qui stanziali per un paio di mesi e ci sono spariti una decina di vitelli per fortuna a un certo punto hanno cambiato zona e ahimè sono andati a dar fastidio a qualche altro allevatore che stava un pochino più a nord e che dire che si orientino più sui cinghiali che sui vitelli perché dispiace proprio insomma che 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 mangino i vitelli questo veramente brutto nel vostro allevamento i tori vivono sempre con le loro e i tori stanno con le vacche abbiamo un terzo della della mandria con tori maremmani poi abbiamo altri gruppi con tori sciarolè e limousen le le giovani sono col toro limousen perché ha un fanno un parto più facile in quanto i vitelli del limousen nascono più piccoli le altre stanno con lo sciarolè che produce secondo me un incrocio ottimo la maremmana le seconde generazioni dei morani sono rimasti in azienda i figli sono praticamente tutti in azienda è un po data la dato il periodo e quindi un figlio chef un figlio chef l'altro figlio mi aiuta diciamo nell'amministrazione a una piccola azienda di vino in toscana dove fa un morellino di scansano biologico quindi lui c'è la cantina e fa il vino lui la moglie si occupa del dell'orto perché lei è vegetariana e in questo e quindi tra l'altro l'orto ha anche questa prerogativa che d'inverno offriamo ai clienti le verdure spontanee facciamo dalla borraggine crescione alla cicoria selvatica alla bieta selvatica che è buonissima perché poi oltretutto queste verdure sono hanno dei poteri antiossidanti e poi hanno un sapore veramente diverso da quegli altri ecco ci diceva prima che anche il cardo che punge moltissimo in realtà anche in cucina si può utilizzare che ho detto scalera e fa un piccolo carciofo tra poco tra qualche tra un mesetto così molto spinoso che si raccoglie coi guanti e si fanno dei carciofini veramente ottimi saporiti ci vuole un po di pazienza si diceva una volta che la maremmana era una carne da umido perché era una carne un po' tigliosa un po' pesante ottimo l'umido buona però immagino anche una costata si è lavorata adeguatamente secondo noi sì mio figlio che ha questo che gestisce il nostro ristorante con l'agriturismo ha tutti i lombi che fa di manzo quindi di animale adulto e che fa frollare per più tempo e devo dire sono ottimi perché poi il sapore della carne che è stata sempre al pascolo è tutt'altra cosa la famosa ginnastica funzionale come direbbero quelli che lo studiavano insomma voi consegnate anche a Roma quindi servizio porta a porta particolarmente apprezzate immagini in questo periodo ma forse sempre noi di solito comunque consegniamo a Roma in dei luoghi dove le persone vengono a ritirare noi presenti i pacchi o se no a chi lo chiede, a chi ha problemi, a chi è in isolamento portiamo la carne a casa e quindi questo è un servizio abbiamo anche riciclato i nostri camerieri durante il lockdown perché non lavorando all'agriturismo chi voleva ci ha aiutato a portare le consegne quindi un servizio veramente domiciliare sì un servizio domiciliare abbiamo tantissimi clienti affezionati aumentano sempre poi abbiamo diciamo prima andavamo solo su Roma e da quando c'è stata questa pandemia siamo presenti su tutto il litorale Civitavecchia, Santa Marinella, Cervetria, Dispoli, Fiumicino cioè tutta la fascia vicina questi bellissimi animali sono tranquilli, ci si può andare in mezzo o è bene avere un certo senso di rispetto nei loro confronti? dunque sicuramente non bisogna andarci con i cani perché quando hanno il vitello loro hanno questa giusta paura ancestrale del cane che per loro è il lupo quindi tendono a difendersi, a difendere i vitelli dal cane e quindi cercano di attaccare anche l'uomo se ha il cane peraltro gli animali se non sono stretti e stanno tranquilli al pascolo non danno nessun fastidio però non te ne puoi andare, ti canto una serenata e tu te ne vai così? vergognati! mo 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 mo, la mucca non mi vuole più vabbè basta, è andata, ciao!